Magari potessi aspirare ad un ruolo del genere, mi piacerebbe moltissimo. Tra l'altro saprei cosa fare, anche perché vivo in mezzo alla musica da tantissimi anni. Non credo, ovviamente, ci vuole un nome di ben più alto profilo rispetto al mio per essere il direttore artistico del Festival di Sanremo. Io non ho mai frequentato i salotti dei dirigenti Rai, non sono in un'agenzia blasonata come gli artisti che vanno a ballando oppure gli artisti che fanno il Grande Fratello o quelli che presentano i grossi programmi Rai. Ci sono delle agenzie con le quali io non ho mai avuto a che fare, non ho mai frequentato salotti, non sono mai andato alle feste. Non è il mio ambiente, io faccio questo lavoro per fare altro. Dopodiché, alla domanda ti piacerebbe, certo mi piacerebbe, anche perché non sarà una cosa semplice dirigere.